Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo completo ragazzi Un completo un po' più buggato del solito Perché avremo le caviglie e le braccia invisibili Allora per fare ciò dobbiamo avere il primo completo Quello che avete visto arancione Puoi mettere il tipo di scarpa azzurra Smaker azzurra Mettiamo questo gilet E andiamo a mettere i guanti azzurri ragazzi Mettiamo i guanti azzurri Salviamo il tutto E una volta che abbiamo salvato il tutto Dobbiamo mettere questa tuta ragazzi Una volta messa questa tuta Non salviamo ovviamente Andiamo a casa E facciamo il discorso del telescopio insomma E quando andiamo Che saremo buggati diciamo Andiamo a rimettere il completo che abbiamo appena salvato Salveremo di nuovo il completo E una volta salvato il completo Andiamo al passo successivo Facciamo start Online Attività Create da Rockstar Missioni E andiamo in un lavoro da titano Un attimino che si avvia la missione E' abbastanza semplice ragazzi Scusate i tagli veloci Però il video se no sarebbe stato abbastanza lungo Però penso che gli indumenti O comunque gli accessori che ho messo Li conoscano tutti Non credo ci si serva molto insomma Una volta che sarete dentro la missione Un lavoro da titano Avrete le braccia buggate invisibili Fate bene attenzione ragazzi Mettete la tuta azzurra Perché se non fate quel discorso della tuta azzurra E la buggate con il telescopio Quando entrerete nella missione Non avrete le braccia invisibili Quindi quando siete nella missione Che cosa fate? Andate in una qualunque ammunition E salvate il completo Perché vi permetterà di farlo Allora una volta salvato il completo Aprite il telefono Uscite dalla missione Andate in un negozio di abbigliamento E andate a salvare immediatamente Il completo che avete appena fatto Con le braccia invisibili ragazzi Prima di fare ciò Magari potete mettere una maschera Se volete Togliere questa qui da chimico Magari se non vi piace Oppure se avete qualche altro Qualche altra idea Fatela Il mio è solamente uno spunto Comunque sto mettendo l'azzurro Per rimanere in tema Con il completo Quindi a questo punto Io metterò la La maschera azzurra Questa qui che state vedendo Mettiamo anche una Una sciarpa ragazzi Una sciarpa L'unica che si buggerà Non si buggeranno altre sciarpe Ce n'è una sola che si buggerà E Sembra che non la lascerà selezionare Comunque se ci andiamo sopra La vedrete apparire insomma Non so perché Comunque è un bug del cazzo L'ho notato per caso E quindi Ho voluto mettere sta sciarpa Anche perché il collo così Non mi piaceva Sinceramente Allora Vabbè Fatto sto passaggio della sciarpa Vi salvate il tutto E tornate a casa ragazzi Tornate a casa Quando avete salvato il completo Andate al telescopio Rifate il glitch del telescopio E mettete un occhiale Un occhiale sportivo Possibilmente Quello azzurro che sto mettendo io Che comunque Ha il suo effetto sulla maschera Diciamo che riprende molto con la maschera E poi vi allontanate dal telescopio Lasciate che il bug se compia Insomma che il magico bug Questo telescopio magico Qui se compia Una volta che avete fatto il tutto Che cosa dovete fare? Salvare di nuovo ragazzi Che cosa dovete fare? Ovvio che bisogna salvare Ogni sacra volta A questo punto Andremo ad applicare il cappello Una volta salvato Andiamo ad applicare un cappello Io ho scelto un cappello in particolare Però voi potete mettere Quello da pescatore Quello che cazzo prepara a voi Ce n'è tanto Comunque dei colori azzurri O comunque che riprendono il completo Ce n'è Come potete fare anche il completo Senza maschera O altri metodi Insomma Però il mio Era uno spunto Come sempre Diciamo Ragazzi io andrò a mettere Questo completo Cioè questo cappello azzurro Celeste Che è simile a quello Del poliziotto Diciamo Però celeste Usiamo una macchina Per fare il solito bug Ci posizioniamo Su paracadute E quando stiamo Per salire In auto Andiamo a selezionare Il completo Che vogliamo modificare Una volta fatto ciò Andiamo a salvare Come sempre Come ogni sacro passaggio Che si rispetti Quando si fanno dei completi Si va a salvare E per ultimo ragazzi Andiamo a mettere La borzona Delle rapine Volendo si può anche Mettere il tubo Però secondo me Non c'entra un cazzo A me Piacciano dei completi Che stanno bene insieme Che comunque Abbinano Inutile mettere Troppi cazzi Su un completo Quando comunque Non servono Assolutamente a nulla Solo per dire Ho il completo Bancato Detto questo Ragazzi Il video finisce qui Spero che il completo Vi piaccia Spero che qualcuno Adotterà questo Sistema Delle braccia Invisibili E Lascio un saluto A tutti Al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti